Bella sì, siamo dentro al generale sì, stavo a fare, allora non stavo a fare niente, stavamo, stavo, ma adesso lo faccio anche a te, mi stavo a compiacere del lavoro ben fatto, dici il lavoro ben fatto che ho fatto delle work in progress, mi sembra una cosa carina, te la volevo far vedere, le volevo rendere partecipe, allora ho detto va meglio la vede a Bella sì, allora ti faccio vedere un po' di work in progress che non t'ho tenuto a conoscenza ma ti metto a conoscenza adesso perché di fondo sono un bravo ragazzo e tieniti aggiornato perché sto per fare anche un'altra modifica nei prossimi video, faccio un lavoretto che andiamo a fare la pavimentazione perciò non il resta, come si dice, resta connesso! intanto vedi la postazione che sto seduto nel retro, perciò c'è una novità, però faccio una cosa, andiamo prima di aprire un attimo la finestra di là perché sta a fare un po' caldo, facciamo entrare un po' d'aria ah no, mi sono scordato perché quel gran fio di una mignotta mi ha sfasciato la finestra, quel gran pezzo di merda, capito? mi ero scordato, mi ero, pensa che testolina di cazzo, mi ero scordato che mi sono andato a fare una passeggiata a armare, mi moglie voleva fare la passeggiata romantica arrivo a armare, ho lasciato il bed, devo aver cacciato e mi hanno spaccato il vetro, per rubare un po' di roba, vabbè, ma io te lo faccio vedere, aspetta che accendiamo il computer, un attimo te faccio vedere quello che te... non lo posso accendere il computer, eh sì, perché mi hanno rubato pure il computer, hai capito? si gran fio di una mignotta, si gran fio di una mignotta, ma mi hanno rubato pure uno stereo che mi ha regalato mio fratello quello che si apriva col monitor, ci stava il televisore che lo volevo montare, ci si poteva collegare la telecamera, più di qualche film mi aveva fatto un bel regalo mio fratello, se l'è levato dal camper suo perché mi ha detto, ah, devo regalare, hai capito? in più mi hanno rubato la borzetta che c'avevo dentro al frigorifero, che avevo messo un po' di empicci, ci stava la borzetta quella con scritta Toro Scatenato fatta artigianale da Ardo, e dà via, un cortello, vabbè, un po' di roba che c'avevo qua purtroppo stava tutto nascosto sotto al sedile, non si vedeva niente, sbordava solo la borzetta che effettivamente dentro c'avevo occhiali, occhiali da sole e i chiavi di casa, però, ahimè, hanno visto la borzetta, hanno spaccato il vetro, sono entrati e poi hanno fatto razzia di tutto quello che c'era ora mi ero del culo perché, o serio, era il regalo di mio fratello e vabbè, è vita così e non c'ho più e il pc mi ero del culo perché, primo, era un pc che mi ha regalato mio padre, perciò in qualche maniera era il regalo di mio padre e mi ero del culo secondo, secondo, perché c'avevo dentro più di mille fotografie e chiaramente ho perso tutto, non c'ho più niente, ho perso così terzo, mi ero del culo perché è un computer che c'aveva più di dieci anni, con la batteria rotta, perciò loro per loro non è un cazzo, loro solo rivenneranno se solo riescano a vendere a 30-50 euro e a me mi hanno fatto un danno non indifferente, anche personale, perché è anche un danno personale il computer adesso non me lo posso ricomprare, perciò sto senza e vabbè, è nata così, o serio, è la stessa cosa per non parlare del danno del vetro, perché il problema, oltre di ritrovare questo vetro, che forse l'avrei trovato tramite un amico il problema è che costano un patrimonio, perché sono vetro particolari, perciò oltre quello ci mettiamo pure il danno del vetro vabbè, era per tenere presente questo gran figlio di una mignotta, dici dove stavi? stavo a Tor San Lorenzo, stavo a Tor San Lorenzo, di sottofondo si vede il divanetto bella sfida, stavo a Tor San Lorenzo parcheggiato in un posto, diciamo, volendo anche simpatico sapevo che era pieno di vita e una mignotta, perché lo sapevo, però stavo con la speranza, visto che c'era gente lì e che non mi toccassero niente, invece è ida male t'ho beccato pure il palo, perché dopo mi sono messo a giro un solà all'antorno per vedere, dico, magari hanno buttato la borsa che non c'era niente dentro, recupero occhiali e chiavi tanto erano occhiali da vista da sole, perciò, dico, magari recupero quelli, recupero le chiavi da casa, invece niente, non ho trovato niente però gironsolando lì ho tocchiato uno che mi stava a cioccare, perciò era il palo quando sono andato lì non gli è stato bene qualche cosa e mi ha detto qualche cosa e gli ho detto, stai a far palo, ti do fastidio perché stai a far palo e ti sto a coprire insomma, se sei un po' zuffati così, mi ha detto, ah, perché tu non sai che so io gli ho detto, sei uno zingaro di merda, e me ne so vedo lì ha fatto l'armata, ha sgommato, e comunque è scappato perché io gli ho detto, tanto la targa ti ho fatta, stava a cioccare io ho ripreso, ha fatto la foto della targa e ho detto, guarda che la targa già ti ho fatto la fotografia, ora sono cazzo tua ha fatto un fuggore, e si può essere nato l'istinto era quello di ammazzarlo, ma non potevo manco manco più a me la con una persona così, che comunque, sì, era lui al cento per cento, però non è che ci aveva, gli ho visto la roba a mano, gli ho visto fa' cosa perciò stava lì, poteva pure tranquillamente, tanto quello in macchina non c'hava niente perché lì c'è stava lui che fa' palo e una macchina con due o tre ragazzotti che faceva avanti e indietro sicuramente erano i loro, ma non avendo prove non gli può fare niente l'unica cosa che potevi fa' era andare giù un tre quattro amici mettesi lì a postarli quando passano, tagli tre quattro mazzate e le valli da torno però, vabbè, pace e amore, lasciamo perdere la guerra ti faccio vedere queste piccole work in progress che ho fatto e poi da canno sì, va bene, è un video così che ti voglio raccontare d'esta disavventura, ti voglio far vedere il vetro del bed che non ho oscurato il vetro ma ci ho messo una busta dalla monnezza e staraggiamo così nel mentre ti faccio vedere... eh? allora, il frigoriferetto di cui ti parlavo, che per ora è staccato cioè, tenevo solo un po' di cazzatelle dentro, l'hanno sfodato, la borsetta pensate, mi avevo non culato pure il chiotto, invece ho detto bene, vabbè e il work in progress è questo, vedi? Eccolo qua ho messo quel puffetto, mi pare si chiama puffo, che ci si tiene invece mi tengo un po' di cose dentro, al volo così, che possa essere... per ora ci ho messo la roba della cucina, ma per capirsi il tavolinetto che mi ha regalato un amico ci ho poggiato la bandiera per fare un po' di figo e poi da dietro non è il divanetto che avevamo costruito noi non è il divanetto che avevamo costruito noi altri questo è il divano originale del Bedford che mi ha dato un amico, un grande amico divano letto, così è divanetto caruccio io ho messo la fodera, ma questo c'è tutta la sua fodera di camusciata, come cazzo si dice vabbè, io ci ho messo questo pelo che da un po' di... capito? la sala da scurtico i cuscini che poi saranno per dormire ora ci devo mettere una federa più figa, ovviamente ora è una federa di jeans e così questo basta tirarlo avanti si sdraia e diventa un divano letto semplice semplice appoggiato così sotto è tutto vuoto per poter caricare infatti vedi che c'è una sdraietta ci ho messo un borzone che c'è dentro c'è un sac a pelo per dove poi dormire e fa un work in progress questo tavolino momentaneamente ci ho messo non so se ce lo lascio se potrebbe essere d'impiccio oppure no momentaneamente ci ho messo perché ancora devono andare in evoluzione però nel mentre intanto così gli abbiamo dato un po' di... guarda che carino a vederlo dai sembra proprio... eh? il cappello country che sta lì che c'è tiè c'è sa no si che dichi io penso che è carucetto così va dai niente allora dar bed dar bed è tutto dar bed è tutto prossimo video sicuramente sicuramente se non è il prossimo sarà il prossimo ancora non lo so perché lo devo preparare sarà la pavimentazione ti faccio vedere che ho rimediato un pavimento a gratis e lo andiamo a pavimentare non sarà il massimo non l'ho scelto però non l'ho pagato niente per quello che devo fare va più 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 che bene bella sì grazie